Kronplatz Plan de Corones Prendiamo l'Ovovia 304 Alpen Connecting e voilà, siamo arrivati! Venerdì 8 marzo 2024 terza giornata Kronplatz Plan de Corones e in questo video vedremo l'ultima discesa che sarà sulla 18 Alpen e il relive di tutti e tre i giorni riprese con GoPro Hero 11 in 4K 60fps Hyperview e siamo già sulla 18 Alpen Blue e come la volta precedente proveremo nuovamente a fare le riprese a marco questa volta ci siamo raccomandati che aspetti a partire quando sono pronto e intanto sto valutando la posizione migliore da cui fare le riprese e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale in modo da essere informati su tutti i nuovi video che verranno caricati e ricordatevi di cliccare anche sulla campanella di fianco in modo da ricevere le notifiche e già che ci siete condividete sui social i video che preferite se volete potete seguirmi su strava in modo da avere tutti i dettagli sui giri che faccio volendo potete seguirmi anche su instagram dove trovate foto e reel vi ricordo che nelle descrizioni sotto al video trovate sempre i link a tutta l'attrezzatura che utilizzo e questa volta ce l'abbiamo fatta lo prendiamo fin dall'inizio partito 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 Grazie a tutti. Ho ripreso tutto. Il meteo, soprattutto il nebbione in basso, ma ancora di più la neve super pappa nell'ultimo tratto, mi ha indotto a una scelta che non avrei mai pensato di fare. Facciamo la discesa con la vovia per evitare il nebbione e la neve pappa. Lo so, roba da non credere. Ok. Andiamo quindi a prendere in discesa l'ovovia 301-302 Olang 1 più 2. Godiamoci un po' di panorami, ovvero la nebbia. E siamo quasi arrivati con i prati e la pista con la neve papposa. Et voilà! Siamo arrivati! Stop! Ecco Marco che è arrivato da poco. E andiamo alla macchina perché è giusto il tempo di mettere a posto due o tre cose e poi si parte e si torna a Milano. E ora le operazioni finali. Per finire i re-live di tutte e tre le giornate. Grazie! 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 Pre-live della seconda giornata Plandecorones! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.